La caporetto della Lega, dieci ballottaggi in Veneto e Lombardia e dieci sconfitte, oggi è racchiusa nell'addio alle armi dell'ex sceriffo di Treviso, Gentilini. Stella di Latta, dopo la batosta di ieri pomeriggio col candidato del PD Manildo, festeggiato in piazza con lo sberleffo. Treviso, città deleghizzata. Dopo un ventennio, Gentilini fa gli scatoloni e lascia l'ufficio in municipio sbattendo la porta. Ma la padania stamattina non hanno nascosto la testa sotto la sabbia. Il sommario parla di ballottaggio shock. Il titolo, chi litiga non piglia voti, ora ripartire uniti. Messaggio neanche tanto sommesso per la ripulitura in famiglia dei panni sporchi fra Bossi e Maroni. Il vecchio capo e il segretario, ieri sera subito dopo la batosta, si sono incontrati. Cosa si siano detti ovviamente segreto. Di sicuro è stata decisa una tregua dopo gli attacchi e le accuse di tradimento rivolte sui giornali da Bossi al governatore Lombardo. Il presupposto è smettere di litigare. Poi rilanciare la proposta della Lega, che c'è è forte perché riguarda un tema che c'è sul tappeto che è la questione settentrionale. I nostri voti non ci sono perché la gente non è andata a votare, non ha votato sinistra, non è andata a votare perché è delusa. Maroni, in un'intervista al Corriere della Sera stamattina, ha escluso purghe e cambi della guardia. Il tempo delle rese dei conti e del tafazzismo è finito, rimane Tosi, rimane Salvini, gli avvoltoi se ne vadano fuori dalle scatole. Però qualcosa deve cambiare. Il segretario ha convocato in via Bellerio per domenica prossima parlamentari, consiglieri regionali, segretari provinciali e regionali del partito. Un conclave leghista. Si ridefinisce la linea. Basta beghe e baruffe. Parole d'ordine, territorio e disobbedienza a Roma e Bruxelles. Basterà?